Autocarrozzeria Cavalier Campagna, l'unica azienda certificata ISO Qualità e Ambiente per il Centro Sud Italia. Riparazioni di alta qualità, grazie alle specializzazioni del personale e alle moderne tecnologie. Abbiamo completamente rinnovato le attrezzature, investendo sull'ecologia e ambiente. Siamo fiduciari dei maggiori gruppi assicurativi. Siamo primari collaboratori dei più famosi ed importanti gruppi di autonoleggio a lungo termine. Diamo assistenza alle concessionarie di prestigiosi marchi automobilistici. Tutto questo è dovuto alla puntualità e professionalità aggiunti alla grande passione che ci contraddistingue da circa 40 anni di attività. Autocarrozzeria Cavalier Campagna, puntualità, professionalità e legalità.